Un successo sugli spalti e un successo in pedana. Anche quest'anno l'Aerobica Intel ha organizzato il campionato interregionale Zona 1, cioè il Nord Italia, al Palazzetto dello Sport di Chiavari, coinvolgendo una ventina di squadre e circa 450 atlete provenienti da varie regioni. Oltre alla buona partecipazione sono state positive anche le prove degli atleti locali con 6 medaglie d'oro, 3 d'argento e 3 di bronzo nelle competizioni gold, silver della specialità individuale, coppia, trio e gruppo. Tre giornate positive anche al di là dei risultati. Sì, sono belle giornate, faticose, dobbiamo gestire anche l'ansia degli atleti, però è bello stare qua tutti insieme e vedere i ragazzi impegnati nello sport con tanta passione. Cosa ti porti dentro? Grande emozione di squadra, passione e sicuramente una voglia di fare. La società chiavarese è nata nel 2004 per promuovere la disciplina. Quasi 20 anni dopo è una delle realtà di punta che negli anni ha cresciuto atleti di livello nazionale e internazionale. È una bella macchina ben ogliata perché ormai sono un po' di anni che ci riproviamo e direi che anche stavolta fino adesso è andato tutto bene quindi mi sembra una bella festa anche oltre che una giornata di sport. Abbiamo calcolato 20 squadre, 450 atleti con relative famiglie quindi abbiamo coinvolto parecchie strutture come alberghi, ristoranti e quant'altro serve per poter gestire questa manifestazione.